Da Ostia Antica accanto agli scavi una strada sterrata porta all'attracco dell'Archeoboat e questo il punto di ritrovo dei camminatori del sentiero Pasolini. Il percorso lungo la sponda sinistra del Tevere non presenta difficoltà, ad ogni camminatore do un consiglio se possibile prima di iniziare sarebbe opportuno avere suggerimenti da chi lo fa spesso. Link accanto al titolo per maggiori info.